Un weekend dedicato ai motori qui sul mio canale, oggi parliamo del mondiale di Formula 1 replicando in tutto e per tutto il format che ho presentato settimana scorsa per il mondiale Superbike, presentando la categoria regina e le categorie propedeutiche a proposito di Superbike domani, primo recent podcast su gare effettivamente corse, perché nel momento in cui sto registrando si è corso il sabato del primo weekend della Superbike con appunto il Gran Premio di Australia con le gare 1 di Superbike e Supersport. Ma appunto appuntamento a domani per la Superbike, oggi ci concentriamo su Formula 1, Formula 2, Formula 3 e Formula Academy, partendo però dal calendario della categoria regina, un calendario espanso che vede 24 appuntamenti con partenza il 2 di marzo, quindi esattamente tra una settimana in Bahrain, per poi concludersi l'8 di dicembre ad Abu Dhabi con il Gran Premio di Yas Marina. È un calendario particolare perché appunto sono 24 i Gran Premi in questa stagione, ma è così tanti per una stagione che molto probabilmente si ripererà esattamente come la 2023, quindi sulla carta parecchio noiosa e dominata da Verstappen, è un Gran Premio o meglio è un calendario particolare per via anche della logistica un po' più logica rispetto agli altri anni, perché abbiamo sei Gran Premi extraeuropei per cominciare, una parentesi europea fino di fatto a settembre con l'unica eccezione del Canada in mezzo tra Monaco e Spagna, abbiamo poi la conclusione con un'altra trasferta extraeuroceano sempre tra Asia, Stati Uniti e Medio Oriente. Torna il Gran Premio della Cina, il circuito internazionale di Shanghai dovrebbe svolgersi il 21 di aprile come quinto appuntamento della stagione, la Cina prova a tornare in calendario dopo l'ultimo appuntamento che si è svolto nel 2019, sappiamo che il governo cinese ha voluto una politica di covid free evidentemente fino all'anno scorso e per via di questa politica il Gran Premio è stato rimandato, torna anche il Gran Premio di Imola come primo appuntamento italiano, si dovrebbe correre il 19 di maggio appunto al circuito del Rio Santerno come appuntamento dell'Emilia Romagna, sappiamo che l'anno scorso per via della grossa alluvione che ha invaso la mia regione appunto il Gran Premio di Imola è stato rimandato, altro Gran Premio italiano è confermato quello di Monza che sarà il sedicesimo della stagione, il primo di settembre. Il calendario va detto è una delle poche cose che la Formula 1 ha cambiato dal 2023 al 2024 perché per la prima volta nella storia i piloti che prenderanno parte la stagione 2024, la più lunga di sempre dal punto di vista del calendario, saranno esattamente gli stessi che hanno concluso la stagione 2023. Brevemente li presentiamo accennando anche un pochino quello che è successo nel corso della off-season per alcuni casi, vedi il grande colpo di Hamilton in Ferrari con qualche citazione ai test che si stanno svolgendo in questo momento in Bahrain, anche se sono ovviamente pochi indicativi, una delle pochissime certezze dal mio modo di vedere del Mondiale di Formula 1 è che Max Verstappen sarà ancora una volta l'uomo da battere senza se e senza ma. Verstappen anche già nei test ha dimostrato una forza impressionante, il primo giorno ha dato letteralmente un secondo alla concorrenza, è vero che i test della Formula 1 sono molto poco indicativi, soprattutto in questo contesto parliamo di prove svolte di fatto per due giorni con una stagione che dura praticamente un anno, quindi provare due giorni su un arco poi di una stagione di nove mesi francamente è poco indicativo. La Red Bull comunque parte con appunto i crismi di chi effettivamente è la scuderia da battere, in particolare Verstappen che l'anno scorso ha fatto una stagione irreale, sarebbe ancora più irreale che si ripetesse sui livelli dell'anno scorso, ricordiamo che Verstappen ha vinto tutte le gare tranne tre segnando una delle stagioni più dominate di sempre, se non la più dominata di sempre, vedremo appunto come si comporterà la scuderia austriaca che ha confermato anche Sergio Perez, che di fatto è una seconda guida in tutto e per tutto, al netto che lo ritenevo una delle migliori seconde guide in circolazione, l'anno scorso invece Perez ha sottoperformato, è la stagione di fatto del riscatto, al netto che è comunque in parabola di scendita della carriera, è comunque un grande veterano che può portare punti alla scuderia austriaca, che evidentemente punta su Verstappen, non potrebbe che essere altrimenti. Peraltro Perez è stato sfortunatissimo nei test con appunto un tombino alzato, se non sbaglio, in Bahrain, cosa abbastanza particolare, cosa è capitata anche alle Clerc. E su questo episodio sfortunato in realtà noi ci colleghiamo alla scuderia Ferrari, che comunque da quello che si è visto nei test, per quanto siano poco indicativi, hanno dimostrato di essere la seconda forza in campo, in un clima parecchio particolare, perché sappiamo che la Ferrari punterà quest'anno tutto sulle Clerc, perché sappiamo che Sainz ha ufficializzato il suo addio a casa Ferrari e l'Eclerc comunque al di là dell'episodio del tombino sembra essere molto sul pezzo. La macchina sembra più quadrata, la base sembra solida rispetto ovviamente al 2023, che è tolta la vittoria di Sainz e il finale della stagione scorsa è stato parecchio disastroso, l'Eclerc comunque ha qualche speranza di giocarsi la seconda posizione. Ovvio, ripeto, i test sono poco indicativi, certo comunque vedere una Ferrari competitiva nel marasma del midfield alto, potremmo chiamarlo così, è comunque un buon viatico per tutti gli appassionati e i tifosi della rossa. Appunto, l'Eclerc sarà affiancato per l'ultima stagione in Ferrari da Carlos Sainz, che appunto per via del arrivo di Hamilton in Ferrari, di quale ho già parlato in un video dedicato, ve lo lascio qui sotto nelle schede, evidentemente ha un interrogativo da porsi, cioè il come correre. È verosimile che Sainz possa correre libero di testa, senza particolari pressioni, senza particolari status che si possa autoimporre o comunque provare a conquistare, perché sappiamo che comunque c'è anche delle diatribe in corso degli anni per la prima guida in Ferrari, con Sainz e l'Eclerc trattati in modo paritariamente stupido dal muretto Ferrari, per alcune stagioni discutibili, vedi per esempio la famosa gara di Silverstone di qualche anno fa, è vero però che Sainz ha interesse a correre bene per guadagnarsi il contratto. È vero che si dice che per l'ottica Audi 2026 Sainz sia gettonato come primo pilota, però comunque tra il dire e il fare spesso ci sono di mezzo i contratti e le prestazioni, abbiamo sentito un sacco di voci che poi non si sono rivelate vere, comunque l'unica cosa certa è che Sainz non andrà appunto a correre più in Ferrari dal 2025, perché appunto al suo posto ci sarà Louis Hamilton che dopo 13 anni nell'orbita Mercedes, di fatto abbandona la scuderia che lo ha cresciuto e appunto andrà al cavallino rampante per concludere la carriera d'anni 40. Ad anni 39, quindi nel 2024, siamo stati diciamo tutti scioccati dal grande annuncio che per certi versi ricordava quello di Alonso e McLaren. Alonso nel 2006 corse l'ultimo anno in Renault vincendo peraltro il titolo del mondo sapendo già che l'anno successivo sarebbe andato in McLaren. Il precedente di Hamilton in Ferrari ricorda quello, abbiamo già detto, quelle che sono le caratteristiche di Hamilton e come potrebbe evidentemente gestire la situazione in Ferrari. Hamilton non va in Ferrari a fare la seconda guida alle clerche palese, proverà evidentemente nel suo sogno a vincere l'ottavo titolo del mondo, attenzione però perché pare che il motore della Ferrari sia decisamente importante per l'ottica 2026 e che Hamilton possa fare una mossa simile a quando si trasferì dalla McLaren alla Mercedes ufficiale dove il primo anno arrancò o comunque prese confidenza e poi fece quello che fece nell'era dei mondiali turbo. Ma appunto parliamo del 2026. Nel 2024 invece parliamo di una Mercedes che se la può giocare come seconda barra terza forza del mondiale, di fatto i valori dell'anno scorso nel finale sembrano confermati, bisognerà vedere come svilupperà la politica Mercedes che di fatto ha sempre fatto correre i piloti liberi ultimamente con un Hamilton che di fatto è a fine corsa in Mercedes e con un Russell però tuttavia che deve riscattarsi il pilota inglese più giovane e che comunque potrebbe rappresentare il futuro di Mercedes. Da quei prossimi anni viene l'anno 2023 completamente deludente, una delle grosse delusioni dell'anno scorso è proprio George Russell che dovrà assolutamente riscattare, quindi mi aspetto delle prestazioni più solide e meno errori da parte di Russell che per talento è uno dei piloti che potrebbe assolutamente farci divertire esattamente come il pilota di cui andiamo a parlare adesso, ovvero l'inglese Lando Norris. Lando Norris è uno dei piloti più talentuosi insieme appunto a Russell, a Verstappen, a Leclerc che il mondiale di Formula 1 offre in questo momento e appunto la McLaren se ne accorta blindando il pilota inglese con un pluricontratto. Norris può comunque ripetere la buona prestazione del finale dello scorso anno con una crescita esponenziale, Norris ci ha messo molto delle pezze lo scorso anno con una McLaren che inizialmente era derelitta e poi è cresciuta arrivando addirittura a fare dei podi molto importanti. Certo non è mai arrivato a vincere perché di fronte a Verstappen in stato di grazia Norris comunque avrà un pluricontratto con McLaren e avrà modo di speriamo portare la mia McLaren al titolo del mondo dopo tanti anni di assenza. Ricordo appunto che l'ultimo mondiale della McLaren lo vinse Louis Hamilton parliamo del famoso mondiale del 2008. Confermato anche Oscar Piastri che ha già fatto vedere sprazzi di talento lo scorso anno con quella grandissima vittoria nella gara sprint del Qatar poi però purtroppo Piastri è un attimo cedo di prestazioni compensato però dalla grande crescita di Norris la coppia Norris Piastri è una delle più interessanti del panorama della Formula 1 e sono contento che sia finalmente nella mia McLaren vedremo appunto come e se maturerà il pilota australiano. Passiamo ancora una volta ai team ufficiali il team Aston Martin che è partito benissimo e poi ha arrancato nel midfield conferma il grandissimo Fernando Alonso che per talento è ancora uno dei primi cinque piloti del circuito e che di fatto da solo porta la carretta del team di Lawrence Stroll Alonso dovrà portare evidentemente la maggioranza del peso di questa squadra anche nel 2024 anche perché non è lui il piatto sulla graticola il piatto sulla graticola è Lance Stroll che è vero che ha fatto top 10 lo scorso anno ma le prestazioni dopo anni e anni in Formula 1 sono letteralmente plafonate Lance Stroll è un pilota che sapete benissimo a me non piace però comunque è chiamato all'ennesimo riscatto perché un'ennesima stagione deludente da parte del canadese potrebbe significare alla fine della carriera quantomeno in Formula 1 almeno le voci, il rumor dicono quello vedremo come si comporterà il canadese al netto che non dovrebbe avere grosse chance come da un certo punto di vista giusto che sia confermati anche i due piloti dell'Alpine Pierre Gasly e Esteban Ocona al netto che dal punto di vista personale questi due non si sopportano comunque professionalmente devono riscattarsi perché l'Alpine ha fatto una figura molto barbina come team ufficiale è stato di fatto il peggiore nonostante i piloti in realtà siano abbastanza talentuosi per starci in Formula 1 perché Gasly secondo me è più talentuoso di Ocona ha dimostrato anche di vincere con macchine inferiori certo però in questa Formula 1 dove la vettura conta molto di più rispetto al pilota anche un pilota come Gasly rischia di fare un po' la figura di un pilota che in Formula 1 non ci possa stare quando in realtà potrebbe chi deve riscattarsi dei due sicuramente Esteban Ocona che di fatto ha avuto sì un po' di estemporaneo l'anno scorso ma l'Alpine in generale deve riscattarsi e deve evitare di stare sempre nel midfield da giocarsi i punti con le Haas, con la seconda Stone Martin con l'Alfa Tauri insomma con quelle squadre che non dovrebbero avere diritto di cittadinanza in Formula 1 l'Alpine appunto è chiamata al più grande riscatto del 2024 devono evidentemente dare risposte altrimenti dovremmo anche noi porci qualche domanda sulla competitività della scuderia francese questi erano di fatti team ufficiali adesso andiamo a parlare invece dei team clienti a partire da quelli che hanno cambiato nome perché evidentemente chiamarli team Sauber e team Toro Rosso e team Alfa Tauri era complicato il team Sauber che in teoria si chiamerebbe Stake of One Team Kick Sauber per la cronaca Sauber ha l'unica cosa bella ovvero la livrea verde fluo e nera molto lucida i piloti sono invece quello che sono perché Valtteri Bottas nonostante una stagione deludente ma appunto complice il mezzo della scorsa Alfa Romeo è confermato insieme a Guanyo Joe che di fatto adesso non è più un pilota pagante ma comunque ha la possibilità di anche lui riscattarsi al netto che in caso dei risultati scarso il team stake è molto coperto perché attenzione ci sono sia Theo Purcher terzo pilota e Zayn Maloni ma di Maloni ne parleremo nel parentesi della Formula 2 quindi attenzione perché questi due piloti per motivi diversi devono dare delle risposte Joe perché è un pilota che secondo me non ha denunci di finanzi in Formula 1 e Bottas perché è in parabolicione della carriera comunque parliamo di un grande veterano adesso parliamo del team Alfa Tauri o come si chiama ufficialmente Visa Caps scusatemi Visa Cash Up Racing Ball F1 Team che era la vecchia Alfa Tauri che era la vecchia Torosso che era la Minardi che chiamiamola Alfa Tauri o Team V-Carb come dovrebbe essere giusto che conferma quello che resta di Daniel Ricciardo che ha fatto una buona gara in Messico e poco altro ma appunto è stato anche infortunato ma le presenti dell'Alfa Tauri dell'anno scorso non lo hanno supportato è confermato anche Yuki Tsunoda che francamente è un altro pilota che ha dimostrato di essere molto plafonato con le prestazioni è stato dato un altro anno di possibilità ed è una sorta di delitto perché ricordo che in riserva nel team V-Carb che era Alfa Tauri che era Minardi che era Toro Rosso che ha il mercato mio padre compro c'è Liam Lawson che ha dimostrato di essere un grandissimo talento eppure purtroppo in questo motorsport in Formula 1 quantomeno il talento non basta servono soldi e servono investimenti e evidentemente il pilota giapponese su macchina motorizzata Honda fa il suo concludiamo la carrellata con Haas che conferma i grandi veterani Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg il team Haas ha fatto molto a parlare di sé non solo per il nuovo sponsor che ha comprato ovvero MoneyGram ma perché ha cacciato Günther Steiner che è stato reo diciamo di aver pelafonato le prestazioni ne ha detto che la Haas dell'anno scorso ha fatto letteralmente cagare e anche Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen hanno fatto evidentemente delle grandi prestazioni sinceramente la politica di Haas non la capisco io piuttosto di aver investito su piloti giovani c'è per esempio Oliver Berman che è junior del team Haas io avrei investito direttamente su di lui Haas appunto ha messo Berman come terzo pilota e preso due veterani scelta francamente incomprensibile ma appunto non mi aspetto grandi cose da Hülkenberg e da Magnussen mi aspetto invece grandi cose dalla Williams ma soprattutto dal pilota con la bandiera tailandesa Alexander Albon ha dimostrato di essere letteralmente un fenomeno con macchine inferiori ha portato la maggioranza dei punti dell'anno scorso al team Williams mi aspetto una conferma in questi livelli per fare evidentemente un salto di carriera ulteriore Albon va detto ha già corso in un top team in Red Bull ma è durato molto poco era anche molto più giovane invece in team Williams ha dimostrato di essere veramente quello che carriera la squadra da solo perché appunto di fianco ha confermato Logan Surgent che è vero è stato un former team Williams Driver Academy è un pilota che ha fatto un punto in questa stagione è andato meglio del goto Nicolaro Satifi ma comunque non ha dato queste grandi prestazioni certo qualche lampo lo ha avuto complice anche la macchina che non era probabilmente performante ma anche Surgent deve dare dei segnali altrimenti la Williams potrebbe evidentemente appiedarlo in contumacia di tanti altri buoni piloti che sono degli junior team della Williams che corrono nelle varie categorie propedeutiche e a proposito di categorie propedeutiche andiamo a parlare adesso di Formula 2 Formula 3 ed F1 Academy parlando di calendario e velocemente dei piloti attenzionando alcuni in particolare partendo dalla categoria di mezzo la Formula 2 ha espanso il calendario anche in questo caso 14 appuntamenti per di fatto quello che è un mondiale anche qui si correrà in Bahrain e si concluderà ad Abu Dhabi il Gran Premio delle Mirati Aribi Uniti viene introdotto come nuovo Gran Premio il Qatar anche per la Formula 2 ci sono due appuntamenti italiani Imola e Monza i piloti sono gli stessi di fatto dell'anno scorso come team anche se il rimpasto evidentemente è cambiato e lo vediamo già a partire dall'entry list del 2024 partendo appunto dalla classifica costruttori dello scorso anno il team Art Grand Prix che è campione in carica siccome Purcher ha vinto il mondiale finalmente passando come terzo pilota in Formula 1 presenta il confermato Victor Martins francese che è appunto un pilota dello Junior dell'Alpino uno dei favoriti evidentemente a vincere il titolo affiancato da Zach O'Sullivan pilota che ha fatto il salto dalla Formula 3 Zach O'Sullivan un pilota britannico junior team della Williams un team da tenere assolutamente d'occhio in questa categoria è sicuramente il team prima che è una line up di tutto rispetto a cominciare da quello Oliver Berman citato in precedenza che è un junior team della Haas in realtà della Ferrari ma appunto sarà il pilota di riserva del team americano ma chi ha tantissima attenzione è sicuramente il pilota con la carina numero 4 ovvero Andrea Kimi Antonelli 18 anni per lui opzionato della Mercedes addirittura pare sia impredicato di sostituire Louis Hamilton in Mercedes l'anno prossimo qualora il campionato di Formula 2 possa fare bene di Antonelli si parla veramente un gran bene da quando correva nella Formula 4 italiana e nella Formula regionale europea che peraltro avrebbe anche vinto Antonelli per darvi l'idea ha fatto il salto direttamente dalla Formula 3 europea alla Formula 2 mondiale senza passare dalla Formula 3 mondiale attenzione perché Kimi Antonelli può essere la grande speranza italiana del motorsport dai tempi dei piloti che abbiamo conosciuto negli ultimi 10-15 anni gli ultimi piloti italiani in Formula 1 sono stati di un certo rilievo Trulli e Fisichella c'è stato Giovinazzi ma non era nettamente al livello di questi due attenzione perché Antonelli può recitare veramente il ruolo del fenomeno per quanto dice la stampa ma appunto tra quanto dice la stampa e la pista c'è evidentemente tanto da vedere Antonelli però nei test di Formula 2 ha dimostrato di sapere comunque farci il callo in questa Formula 2 quindi attenzione al pilota di Bologna che seguirò ovviamente con molta attenzione così come seguirò con molta attenzione il barbadiano Zay Maloni lui è il nuovo pilota del team Sauber il Sauber Junior Team ha ovviamente tenuto Purscher come piatta di riserva e ha soldato Maloni che dopo un anno del Red Bull Junior Team passa appunto nel Stake Junior Team ma per comunità lo chiamiamo Sauber attenzione perché appunto Maloni se dovesse fare bene potrebbe avere qualche spazio l'anno prossimo già è barbadiano ed è un idolo delle folle in più è anche forte e corre nel Team Carlin che era lo stesso dell'anno scorso in realtà si chiamerebbe Team Brodin Motorsport ma per comodità lo chiamiamo Team Carlin Team Carlin che ha comunque una linea più interessante perché a Maloni viene affiancato Ritomo Miata che ha vinto in contemporanea la Super Formula della Super G giapponese nel 2023 e di conseguenza ha segnato il pass per la Formula 2 un pilota che mi incuriosisce ha sempre corso in realtà nel sollevante arrivare in Europa e nel mondo in realtà è una cosa diversa ma comunque è una scelta interessante per quanto riguarda un po' del Team Brodin e vedremo come si comporterà questo esordiente assoluto che non ha comunque demeritato nei test line up tutto americano invece per il Team Dance che schiera Jack Crawford confermato dopo appunto l'anno scorso in Rebel New York Team anche se l'americano ne è uscito e viene assoldato al fianco di Juan Manuel Correa di cui sappiamo tranquillamente la storia un pilota che non ha grandi velletà di titolo del mondo in Formula 2 ma comunque vederlo correre già qui è veramente un sollievo per via del grande incidente dei postimi che ha dovuto subire dal punto di aver coinvolto Antonio Berri in quel tragico incidente di Spa il Team Virtuosi prende Cushmeni che passa di fatto dal Team Campus e gli affianca Gabriel Bortoleto Gabriel Bortoleto è il campione regnante di Formula 3 è uno junior team della McLaren e quindi altro più a tenere d'occhio con attenzione è da tenere d'occhio anche il Team MP Motorsport soprattutto per il numero 11 Dennis Hauger confermato almeno supportato da Red Bull fino al 2023 pilota che ha già fatto vedere cose molto importanti nei test è un pilota che per talento meriterebbe di giocarsi posizioni che contano non lo ha fatto del tutto l'anno scorso con lo stesso team e questa è la stagione della riscatto evidentemente per Hauger che di fatto è al terzo anno in Formula 2 ad affiancarlo ci sarà Franco Colapinto pilota argentino junior team della Williams Enzo Fittipaldi passa da Team Carri a Team Van Amersfoort Enzo Fittipaldi ha corso anche lui per quanto riguarda il Red Bull junior team ad affiancarlo c'è Raffaele Villagomez messicano che esordisce in Formula 2 dopo due anni abbastanza anonimi in Formula 3 da Villagomez non mi aspetto in realtà niente di che il team Hightech prende Amaury Cordell che dal team virtuosi si sposta appunto del team britannico il pilota belga ha fatto vedere qualcosa di interessante ma anche lì è molto giovane e molto acerbo chi sicuramente è il pilota di punta di questo team è Paul Aaron pilota Estone che passa dalla Formula 3 alla Formula 2 Aaron è comunque un pilota che ha esordito nel fine dello scorso anno appunto ad Abu Dhabi ma in Formula 3 ha già vinto delle gare è un pilota sicuramente molto talentuoso come Antonelli Aaron e Junior Team della Mercedes invece il team Campos ha un schieramento tutto Red Bull Junior Team a partire dal franco algerino Isaac Ajar affiancato da José Maria Martí detto Pepe grande pilota di prospettiva Martí fa il salto dalla Formula 3 alla Formula 2 il team Trident conferma l'olandese o meglio riprende l'olandese Richard Veskor che comunque è un pilota che ha dei lampi di prime 5 posizioni ogni tanto ma è un pilota da midfield e conferma Roman Stane che ha il secondo anno in Formula 2 sempre con lo stesso team chiudiamo invece con il team PHM che ha una line-up tutta nuova viene ingaggiato Joshua Durksen il primo pilota paraguaiano della storia della Formula 2 dopo aver corso la Formula Regional europea e viene affiancato da Taylor Barnard pilota del Junior Team della Williams che fa il salto da Formula 3 a Formula 2 Barnard ha vinto una gara l'anno scorso in Formula 3 e viene appunto assoldato nel team che in realtà è il peggiore della griglia quindi la Durksen e Barnard non mi aspetto grandissime cose in quest'anno passiamo a parlare della Formula 3 che ha un calendario in realtà confermato rispetto allo scorso anno 10 gare con due extra europee anche la Formula 3 correrà in Bahrain e aggiungerà l'Australia l'ultimo appuntamento della Formula 3 sarà il primo settembre a Monza mentre appunto la Formula 2 andrà avanti anche in Azerbaijan Qatar e Abu Dhabi 30 piloti anche quest'anno e come la Formula 2 è stato un grandissimo rimpasto della entry list che andiamo ovviamente a vedere tutti insieme a partire da chi ha vinto il campionato costruttore dello scorso anno ovvero il Team Prema Team Prema che conferma Dino Beganovic pilota svedese junior team della Ferrari e ingaggia Gabriele Mini uno dei grandi piloti italiani che può dare speranza in generale al nostro motorsport insieme appunto ad Antonelli e anche a Leonardo Fornaroli Mini pilota palermitano junior team dell'Alpina appunto passa in Team Prema dopo aver fatto buone cose l'anno scorso in high tech esordisce invece in Formula 3 Arvin Limblad che appunto ha corso nel campionato italiano di Formula 4 Limblad è un pilota dello junior team della Red Bull il Team Trident conferma Leonardo Fornaroli pilota piacentino che ha fatto una buona stagione lo scorso anno ed è pronto alla maturità evidentemente in questa stagione gli altri piloti sono di fatto degli esordienti a partire dal francese Sabine e dal messicano Santiago Ramos il team MP Motorsport ha un altro esordiente ovvero Team Tranets pilota tedesco che è junior team della Red Bull affiancato dal polacco Karper Stutzka che ha vinto la Formula 4 italiana lo scorso anno e dall'esordiente l'irlandese Alexander Dunn il Team Campus conferma in qualche modo Oliver Goethe che in Formula 3 aveva esordito nel 2022 nel 2023 era in Team Trident e adesso torna di fatto nel Team Campus insieme al figlio di Juan Pablo Montoya ovvero Sebastian che ha fatto un excursus nel Red Bull Junior Team l'anno scorso ed è stato confermato anche in questo caso e Mari Boca è l'altro pilota confermato col secondo anno consecutivo in Team Campus il Team Hightech conferma in qualche modo Luke Browning dopo la stagione scorsa abbiamo un altro norvegese in Formula 3 che in questo caso è Martinus Stenhorne dopo appunto Hauger abbiamo un altro pilota nordico che arriva evidentemente in Formula 3 esordisce in modo assoluto in Formula 3 invece Chance Shields pilota che appunto ha corso l'anno scorso l'Euro Formula Open chiudendo in seconda posizione il Team Hightech ingaggia Charlie Wurz che è appunto il figlio di Alexander Wurz l'ex pilota di Williams e McLaren su tutti assieme a Maxwell Esterson che è un pilota statunitense che viene di fatto da iRacing il simulatore eSport insieme al primo perinano della storia ovvero Mattias Zagarreta il Team Van Amersfoort prende Noel Leon pilota messicano conferma Sofia Flörsch o meglio ingaggia Sofia Flörsch che l'anno scorso ha corso nel team PHM facendo anche dei punti in quella gara pazza di Spa Flörsch comunque è un'ottima conferma e la seguirò esattamente con tanto piacere e poi altra conferma quella dell'australiano Tommy Smith il Team Hight di fatto conferma soltanto il bulgaro Nicola Zoloff che è un pilota dello junior team dell'Alpine e per il resto ingaggia l'olandese l'olandese Lawrence Van Hoppen all'esordio assoluto e poi Christian Mansell al terzo anno di fatto in Formula 3 il Team PHM prende il tailandese con un nome francamente impronunciabile che è Tazanapol Intrapuvasak faccio una fatica a pronunciarlo speriamo che arrivi nelle posizioni che non contano così non possa dire il suo nome in realtà lo chiamerò Tern per comodità insieme al russo con licenza italiana Nikita Bedrin e allo svizzero con il passaporto austriaco Joshua Dufek che ha esordito nel finale della scorsa stagione nel Team Campus abbiamo invece altri tre piloti per completare il Team Rodin o Team Carlin il britannico Callum Wojcena all'esordio assoluto dopo che ha vinto il campionato del GB83 il polacco Piotr Wysnicki che rientra in Formula 3 dopo aver fatto messaggio nello scorso anno e poi l'altro esordiente un altro britannico Joseph Loke questa è la Formula 3 concludiamo con la F1 Academy che di fatto esordisce con questa denominazione nel 2024 sette appuntamenti per due doppie gare si correrà di fatto molto di più al mondo che in Europa solo due gare per il campionato femminile Barcellona e Zandvoort di fatto la F1 Academy è una Formula 4 femminile con 15 piloti regolari che sono supportati evidentemente in 10 unità dai team di Formula 1 e qui li vediamo è l'evoluzione di fatto della W Series ma ci vuole dare ovviamente un po' più di risalto alle ragazze che sono nel mondo del motorsport e di conseguenza ovviamente è una categoria di contorno della Formula 1 primo appuntamento della categoria femminile agenda si chiuderà anche in questo caso ad Abu Dhabi e qui andiamo in ordine a cominciare da come ce li presenta Vicky Pai di inglese il team Carlin o team Rodin presenta Lola Loving Foss che è una delle poche pilote che non è supportata da nessun team di Formula 1 a differenza di Abby Pulling che invece è supportata da Alpine Jessica Edgar che è la sorella di fatto di Johnny Edgar pilota che ha corso in Formula 3 gli anni scorsi è la terza pilota del team Carlin il team invece MP Motorsport ha un olandese in caso ovvero Emily De Hois mentre ci sono le sorelle Alcubaisi due pilote emiratine che nelle categorie propedeutiche hanno fatto comunque discretamente e possono essere comunque delle candidate al titolo dell'F1 Academy Amda Alcubaisi estmosferizzata meglio supportata da Red Bull la sorella Amda invece dal team Racing Bulls o Alfa Tauri o il team V-Carve come lo chiameremo da qui in questi racing podcast il team Campos presenta Chloe Chambers pilota americana che è stata sponsorizzata da Haas insieme a Kerry Schreider che invece è del team Sauber manca una terza pilota che è ancora da annunciare ma appunto da qui a gente ci sarà tempo il team Art presenta Bianca Bustamante pilota filippina sponsorizzata da McLaren insieme ad Aurelia Nobles che di fatto sarebbe una diciamo pilota del Ferrari Driver Academy ma qui che invece corre di fatto in modo indipendente altro nome interessante per team Prema è Lia Bloch che è la figlia di Ken Block il compianto campione del rally Lia Bloch ha abbandonato la disciplina del papà per dedicarsi di fatto alle ruote scoperte e appunto è superata dal team Williams chiudiamo invece col team Prema che presenta la svizzera Tina Hausman supportata da Aston Martin Dorian Pinn di cui si dice veramente un gran bene sponsorizzata da Mercedes e l'olandese Maya Veug che è sponsorizzata da Ferrari c'è un'altra pilota che correrà in realtà il gran premio di Jeddah per il team Prema ed è la saudita Reema Giuffali sappiamo che la F1 Academy per regolamento concede delle wildcard a pilote locali per evidentemente rimpolpare la line up e appunto siccome si corre a Jeddah viene schierata la pilota saudita più competitiva appunto la Reema Giuffali questo è il recap di tutte le categorie della Formula 1 Formula 2 Formula 3 e anche F1 Academy di cui ovviamente nel modo di quest'anno nel Racing Podcast ne parleremo in modo approfondito questo comunque è la entry list della Formula 1 che parte ricordata una settimana in Bahrain cosa ne pensate di questa stagione che evidentemente è di transizione Verstappen probabilmente dominerà secondo me sì gli sarà la seconda forza in campo come correranno Hamilton e Sainz dal punto di vista psicologico fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto al video il saluto da parte di Matthew Thorgard ci vediamo domani con il primo Racing Podcast commentato delle gare della stagione grazie a tutti